Che buffare? Che si fa? A chi si è serrotto il filo della seconda, della terza, della quarta e ora si sostituisce. Si prende un cavo, mettiamo il grasso, poi lo andiamo a inserire. Mettiamo il po' di grasso. Vieni, fallo tempo, fallo spiritoso. Grasso, fai vedere come lavoraristi. Grasso e metti, grasso e metti, grasso e metti. Metti grasso, levo il grasso, metti grasso, levo il grasso. Levas cecchino alla bocca qui e mi denuncia. Anche se tu hai 18 anni. Ingrassa. Lo piglia a pizzicotti, lo piglia. Che gli fa male? Guarda, sono dedicato, lo vivo. Fungi. Fungi. Tira indietro. No, vai. Ciao. Il nostro vicino di casa. Il grande Massimo. Fagli vedere, fai vedere, lui, 5 massi. Si vende? Non si vende? Non ci dà ai 100 può passare. Madonna. anche dei massi la fanno assaggiarli non ce l'ho fatto io voglia volentieri non è il problema allora il cavo l'abbiamo fatto passare e ora mettiamo un fermacavo qui no il registro è di qua ancora non c'è la più una sega come funzionano le cose mettiamo un fermacavo e andiamo a strizzare le marce d'accordo e nulla raga su 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 o ti fa bello non ho un tatuaggio guarda fermo fermo allora un abbraccino eh vieni con le mani lì lui è Cristia ma due rom una pigna e difatti c'ha la vespa verde perché è pigna guarda brio guarda brio guarda brio lì in terra in terra terra si brio vabbè raga nulla ora si prepara questo motore qui si smonta tutto perché questo qui all'albero parma hit 30 attento come vedete si gira il volano e l'albero parma hit è andato a farsi un parmalat si è rotto di anno regge 32 cavalli parma hit va forse si regge 32 brio chi chi si brio vieni brio vieni 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 la sua mamma la sua mamma ciao raga questo è un video insomma come mettere un filo un filo un un'arma un'arma brio vabbè vabbè questa è come si monta il filo delle marce semplice semplice cristia grande che mi aiuta metti grasso a posto ho finito il grasso sicuro a qualsiasi brio finito e grasso ben finito di calma respira ma voglio bene brio a cristia vabbè ciao ragazze non c'entra nulla ora si si rimonte il filo qua si mette ferma capo sotto all'ambrettino alla posto la vespa direi a posto fischia ciao raga dal titi brio cristia mire e laggiù la lucia e sempre lavare i panni fa un saluto luci devi dire ciao ciao raga di lo ciao raga dai lo ciao raga e chi io